Che dopo sette anni di amministrazione di centrosinistra, perché non vi ricordiamo che, scordatevi che si è dettati l'altro ieri o due anni fa, si è dettati sette anni fa, ben sette anni questo recupero di centralità, ma bisognerebbe mettersi d'accordo che cosa significa, non ha avuto nessun avvio, forse ha avuto qualche stop. Pettinaro ha le buone intenzioni, quando parla dello stesso appoggio bisognerebbe fornire a tutti i poli, a tutti i poli pubblici e privati che ovviamente lavorano nel senso progettato se ci fosse o desiderato se ci fosse un desiderio da parte di questa amministrazione e divisione generale della città, ma se così è vale lo stesso discorso per l'università. Pettinaro ha le buone intenzioni, quando parla di questo appoggio bisognerebbe per l'università. E' tempo di bilanci, cosa ha un suo giudizio sul sindaco Sperantino e la sua aggiunta? Beh, innanzitutto una sintesi sul lavoro che noi abbiamo svolto in Consiglio Comunale come gruppo di alleanza nazionale. Penso che sia un lavoro soddisfacente per i tanti impegni che abbiamo portato avanti, con una direttrice principale. Cioè noi abbiamo cercato di fare opposizione in maniera concreta, leale, non urlata, non tante volte come vediamo quella che fa la sinistra, cercando di non ostacolare quei provvedimenti che vanno nell'interesse dei cittadini. Grazie.